Chi è lei? Javier, dell'impresa Edile. Per il ciclo sabato in giallo. Che faceva lì dentro? Paul è quello che ha mandato suo figlio in prigione. Voglio che tu sappia cosa si prova a perdere qualcuno. Per seguitare me e la mia famiglia non lo riporterà in vita. Vuoi vendicarti? Dobbiamo chiamare la polizia. Revenge. Vendetta privata. Prima TV. Sabato 21 e 15. Oh no. Rete 4.